Ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa per la strada, lì ricomincia la storia del calcio. Non importa se sulla terra arsa di una favela sudamericana o sul ruvido marciapiedi di una metropoli europea. Ogni volta che un bambino prende a calci una palla, lì ha inizio la passione. Ho iniziato quasi subito a farlo attaccando perché comunque era il ruolo più ambito per tutti i ragazzini. Far gol è sempre stata la cosa più bella. Far gol è sempre più bella.